La colonina di mercurio del termometro ha raggiunto in questi giorni vette tra le più alte della stagione, del resto l'anticiclone africano sta facendo il suo dovere, ma forse il peggio deve ancora arrivare. Sì perché gli esperti ci dicono che i prossimi giorni saranno ancora più impegnativi dal punto di vista delle temperature e in arrivo il solleone, quindi come si diceva un tempo. Clima rovente almeno fino a ferragosto con valori sicuramente oltre i 30 gradi, ma ad essere roventi non solo le strade o le case prive di condizionamento, anche le sale d'aspetto dei pronto soccorso locali sono l'altra colonina di mercurio che indica la stagionalità climatica con un aumento di almeno il 30% in più di accessi rispetto alla media annuale. Nulla di emergenziale però è che non sia previsto e che non si ripresenti stagionalmente. Anziani però e bambini in età pediatrica le principali vittime di questa canicola agostana, come ci dice il responsabile del pronto soccorso del Santa Croce di Fano, il dottor Titolo. Ma molto è stato detto insomma anche in tutti quanti i telegiornali, soprattutto nazionali, ma quello insomma soprattutto per quanto riguarda le persone più flagili, insomma quelle con patologie respiratorie, di restare a casa negli orari più caldi, insomma una importante idratazione perché quella ancora, quella è una cosa insomma che difficilmente entra in testa insomma soprattutto alle persone anziane, non bevono e quindi poi alla fine insomma ci sono problemi di elettroliti, insomma sodio, potassio insomma che calano insomma e quindi comunque perdere di coscienza insomma o sincopi. Rispetto agli anni passati però c'è un picco più elevato o siamo nella media? Siamo nella media tendente lievemente insomma al calo dato insomma che comunque ci sono state delle temperature decenti insomma fino a questo momento. Ci aspettiamo come dicevo prima fuori di onda insomma un picco insomma nei prossimi giorni perché molto probabilmente le temperature saranno più elevate. Ecco quindi non c'è una situazione emergenziale per Fano, tutto è nella norma rispettando chiaramente la stagionalità. Ecco diciamo che è quello che ci aspettavamo insomma sostanzialmente per cui non abbiamo visto dei picchi anomali insomma è arrivata l'estate e ci aspettavamo da un picco superiore insomma a quello dell'inverno sicuramente. Grazie a tutti.